Tutto pronto a Vittoria per la decima edizione del Festival Scenica, l'evento a cura dell'Associazione Santa Briganti che sarà inaugurato stasera alla Villa Comunale. Il festival che proseguirà fino al 20 maggio ogni anno porta in città, circo, teatro, musica, performance urbane, esposizioni, danza ed arti varie. In modo simile ai festival più importanti a livello nazionale, Scenica oltrapassa ormai per tradizione i confini dei linguaggi artistici, mostrando ad un pubblico spettacoli difficilmente etichettabili dentro anguste definizioni. Quest'anno sarà il trio composto da Alberto Beccucci, Salvatore Frasca e Alessandro Riccio ad accogliere i tanti visitatori nella magica atmosfera del circo e delle arti in generale. Grazie a tutti.